Assalto a fuori grotta per il concertone di questa sera dedicato a Pino Daniele. A Napoli arriveranno almeno 40.000 fan del Nero a Metà. San Paolo Blindato e Piano Anticaos in azione. Concorse straordinarie della linea 2 della Metropolitana e della Cumana che consentiranno il deflusso e rientro a casa dei visitatori anche dopo l'evento. Nelle strade dell'intera area in prossimità dello stadio, ad eccezione di categorie protette come disabili, residenti, stampa, pubbliche amministrazioni e soprattutto organizzatori, è scattato ieri mattina alle 6 il divieto di sosta permanente con rimozione coatta. Dall'alba di oggi fino a mezzanotte intanto è stato istituito il divieto di transito veicolare nella metà carreggiata a destra del tratto di via Tansillo a senso unico compreso tra le confluenze di via De Gennaro e via Galeota. Poi, sensi vietati, stop alla sosta, divieti a pioggia nell'area Corona per evitare il blocco. L'ordinanza prevede inoltre il senso unico di circolazione in via Terracina dalla intersezione di via Cinzia e fino a quello di via Barbagallo, solo per citare qualche particolare. Insomma, un piano sosta che in buona sostanza replica quanto avviene durante le partite casalinghe del Napoli Calcio. Per la linea 2, a concerto concluso, le corse partiranno dalla stazione dei Campi Flegrei verso San Giovanni Barra e Pozzuoli, fino al completo deflusso della clientela. Per la Cumana Eav ha predisposto 10 partenze ogni 20 minuti da Montesanto a Torre Gaveta e viceversa. Le ultime partenze sono previste all'1.49 dalla fermata mostra nei pressi del San Paolo per Torre Gaveta e alle 2.48 direzione Montesanto.